Ciao, sono Mirella, sono di Andria, Puglia, città in cui risiedo e lavoro. La maggiore connotazione della mia vita è l'amore per la fotografia. Proprio attraverso la fotografia ho potuto approfondire gli aspetti più significativi della vita di una comunità. L'idea è proporre ai turisti percorsi esperienziali, alla scoperta della cultura locale, attraverso la fotografia, le passeggiate nel territorio, visite nei mercati locali e nelle realtà produttive. Amo le mani in pasta e per trasferire le sapienze delle tradizioni in cucina mi è già capitato di organizzare dei laboratori. Questi sono gli ingredienti e la pentola in cui far lievitare questi ingredienti è la mia dimora. Vivo in una casa mediterranea con la vocazione all'accoglienza nel cuore del centro storico di Andria. L'ombelico della casa è il cortile interno. Oltre a molti ambienti piacevoli, anche adatti all'ospitalità, ampi terrazzi che regalano visioni spettacolari anche sul ritiro del sole all'orizzonte. Innamorata delle condivisioni, apro spesso la mia casa alle attività culturali insieme a Fucina Domestica e un progetto che dirigo e con successo abbiamo anche sperimentato una forma di turismo esperienziale con un piccolo gruppo di turisti stranieri. L'esperienza è stata molto bella. Amo molto infatti far sentire l'ospite parte viva della comunità che lo accoglie. Uno scambio internazionale di storie, conoscenze, progetti. Uno scambio emotivo, prima ancora che di servizi. Un vero terreno di cultura, perché fare cultura può essere un'impresa. Comanda. Grazie.